Padre, questo pomeriggio su questo campo si apre uno spaccato bellissimo di sport, di amicizia, di fair play. Noi stiamo cercando di dare un'idea diversa di questa scuola. Il Gonzaga diventa un campus in cui i ragazzi possono vivere tante esperienze importanti per la crescita. E lo sport è una di queste esperienze che forma sia a livello personale che a livello sociale ed è testimone di valori in cui la nostra società ha bisogno di credere e di rilanciare. I bambini e i ragazzi si divertono, si formano, migliorano la loro vita e migliorano, noi speriamo, anche la nostra città e il nostro mondo. Quanto ci crediamo che lo sport possa essere un punto di partenza proprio per riqualificare quella decadenza antropologica alla quale accennava lei stessa? Io mi sto battendo parecchio, l'ho fatto anche in altre scuole dove sono stato direttore perché ci credo veramente, è una forza formativa dello sport. Non passa attraverso messaggi predicati ma passa attraverso esperienze vissute. I giovani sperimentandosi nello sport veramente imparano i valori e questo, come diceva, è una buona ricetta per rilanciare i valori oggi presso i giovani e nella nostra società. Lo ricordo spesso, Papa Francesco spesso cita lo sport come un'agenzia formativa importante, come una metafora della vita, una metafora della vita che bisogna giocare, dice Papa Francesco, in attacco senza stare in panchina. Questo è un bel messaggio sul protagonismo dei bambini e dei giovani per la nostra società di oggi e per la nostra Sicilia. Lo sport forma i ragazzi e noi siamo all'interno di una scuola quindi non potevamo mai essere in un posto migliore tramite l'Issigrazie all'ospitalità dell'Istituto Gonzaga. I ragazzi frequentano questa scuola e completano la loro formazione attraverso lo sport creando una comunità completa. C'è il sostegno delle famiglie che comunque seguono noi in ogni istante e i propri figli? Assolutamente sì, sono i loro primi fan. Certe volte esagerano un po' però anche questo fa parte del calcio, dello sport. Tanto sacrificio che poi alla fine ripaga vedendo un po' tutta questa gioia? Non sono per niente sacrifici, gioia, felicità, giocare con loro, divertirsi, veramente mi danno tanta energia, do tanto ma tanto ricevo. Abbiamo fatto il campionato di fine anno, cioè il mese di maggio usiamo fare un torneo tra tutti i bambini della mia scuola calcio che sono circa 80, si incontrano tra di loro e alla fine viene fuori un vincitore ma sono tutti vincitori. Quanta responsabilità si sente ad avere germogli di professionalità? No ma non mi sento nessun peso addosso, io vengo con gioia, allegria, mi diverto con loro. Porta aggregazione da parte di tanti ragazzi che si ritrovano in una struttura eccezionale dove la cultura e i valori si coniugano con qualcosa di importante che è lo sport e l'aggregazione tra i giovani.